Siamo alla nona, nona giusto? Non è ultima speriamo, manifestazione per la vita indipendente. Lui e Nicola? Credo che sarà l'ultima. Non credi? Ma no. Io non ci credo. L'ottava è finita con la corsa. Poi la decima dobbiamo farla per forza per fare cifra tonda. E' fatti. La decima la facciamo in costume da bagno. Non male che dal 28 avete fatto il 27. Era meglio il 28. La prima volta che avessi fatto, la seconda, era il 28 novembre. Il 27 di mio fratello. Andiamo sul tetto, dai. Chi è che vuole venire sul tetto? 28, 28. Sì. A vino d'intorni. A vino d'intorni, che era già diversi mesi che eravamo scoperti, diciamo. Mi fai fare scusa una foto? Prego, scusami. Posso mettere questo? Sì, metto. Vuoi, Leo? No, che stiamo. No, Pino. Io so che quest'anno è il giorno prima del mio cumplea, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta.